Sindaco De Ranieri, questione del coronavirus, com'è la situazione nel comune di Amelia? La situazione ad Amelia è buona, stiamo monitorando tutti i casi che ci sono stati segnalati da ASL. Purtroppo gli aggiornamenti non sono completi, quindi il super lavoro a cui ASL è sottoposta sicuramente comporta anche qualche problema per noi, però stiamo cercando di dare le risposte più adeguate alla situazione, soprattutto ai cittadini. Stiamo monitorando le quarantene, sono al momento meno di 10 persone in quarantena, tutto tra quelli che sono stati a contatto con soggetti positivi e quelli che sono rientrati al domicilio proveniendo dall'estero o da altre situazioni e continuiamo a tenere tutto sotto controllo. Famiglie in difficoltà o comunque categorie più disagiate, che cosa state facendo per venire incontro a quelle che sono le loro esigenze? Siamo partiti oggi con il nuovo modello di autocertificazione per gli aiuti provenienti dal governo, stiamo lavorando per integrare queste risorse con le donazioni che potranno arrivare sulla tesoreria comunale, ma non solo, se ci saranno tante richieste provvederemo anche a integrare con risorse proprie dell'ente. Nel frattempo abbiamo attivato anche la raccolta alimentare presso gli esercizi pubblici del comune di Amelia, questi generi di prima necessità che verranno offerti dalla cittadinanza verranno poi distribuiti alle famiglie più in difficoltà. Cerchiamo di essere operativi su tutto, abbiamo la protezione civile che ringrazio, che fin dall'inizio di questa pandemia ha fatto le consegne a domicilio, continuiamo così e la raccomandazione è sempre la solita, state tutti in casa. Grazie.